L'Agroppoli ripiomba nell'ingubo Cianfrone. L'allenatore Sanchez, lontano per indisposizione personale, lascia lo scettro a Liguri, il quale mette in campo una squadra fotocopia di quella di Cianfrone, forse anche per coerenza, visto che era il suo secondo, e l'Agroppoli ripiomba lo spettacolo indegno e inaccettabile del giro di andata. Il 4-3-3 scolastico e didattico interpretato dalla Super Rosa dell'Agroppoli ha trovato notevoli difficoltà rispetto a quello dinavico e strescente e pieno di idee dell'ultima in classifica, guidata da Castillo. È inutile che ci si giri intorno, nel nuovo calcio gli allenatori fanno la differenza. È finita 1-0 per i Delfini grazie ad un gol di Vitelli a fine primo tempo scaturito da un'azione personale. L'Agroppoli ha fatto schifo, ha giocato male e ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, ha dimostrato che il 4-3-3 non può farlo. Molto bello gli avversari sul piano del gioco, la Virtus Sicilento arrivava sempre prima sul pallone, sulle seconde palle, prevaleva sul palleggio, ha nettamente schiacciato l'Agroppoli. Per quanto riguarda le azioni pericolose, i Delfini si sono fatti preferire, però grazie ai suoi calciatori, nettamente più forti degli avversari della Virtus Sicilento, si è fatta preferire anche la situazione relativa alla vittoria finale, di 1-0, troppo poco però. Nella ripresa, l'Agroppoli ha sferrato molte volte il secondo gol, ma sempre frutto di azioni a vanvera. Un altro passo indietro dell'Agroppoli sul piano del gioco, i tre punti sono la sola cosa positiva, il pareggio della Scafatese fa ridurre le distanze con l'Agroppoli, Delfini ad un solo punto dal terzo posto.